Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio, innanzitutto saluto Ash Ketchup, vi lascio qua come male ha scritto il commento e salutarlo nel prossimo episodio, io ti saluto, benvenuto in questa serie, spero ti piaccia e preparatevi perché oggi siamo riusciti a fare più del previsto, eravamo ben organizzati, sono successe delle cose non previste e speriamo che vada tutto bene, dai, ma preparatevi che ne avrete delle belle. Ok, si riesce il tramonto e 3, 2, 1, via! Salta lo slime! Già un po' di pollo cotto ma non ci fa, vediamo di sbrigarci perché... Ragazzi, sta già venendo la notte, non vorrei dirlo ma... Non abbiamo le frecce, ci siamo le frecce, vedo il beacon, vedo il beacon! Dai, resisti, resisti, ecco i primi zombo, il primo zombo! Zomba, zombo, zumbaba, zombo, zumba, zombabombo, zumbolo, zumbolino, zumboletto, zumboletto, zumbolino, paparapapino! È pieno di creeper, di scheletri! Evacuate la zona, evacuate la zona Scudo, non mi sono portato gli scudi di riserva E là, non ho neanche l'acqua Peraltro, cioè non ho portato niente Ok, andiamo a togliere C'è un command block C'è un command block Io direi di provare ad attivarlo Però prima ci togliamo tutti questi Ragazzi, guardate il cannone proti Cos'è questo? Quanti sono Ahia, ho preso fuoco Ho preso fuoco Ho preso fuoco Aspettate un attimo Devo organizzarmi Mangia Chiude Mangia A voi li aprite Li lasciate proprio uscire Via tutti Che cavolo Però se mi date fuoco Vattene a prendere l'acqua va Addio Fontana Vattene a vedere che cosa succede Magari Li killa tutti Oh cazzo Ah Che succede? Che succede? Ok, quello non si muove però Però è pieno di zombie E' pieno di creep Vai Dobbiamo riuscire ad attivare il cannone Ragazzi, è la morte Aiuto Aiuto Prendi la redstone Prendi la redstone Non ti preoccupare Mi ha mancato Mi ha mancato Ragazzi, tra un po' non abbiamo più lo scudo Mangia una mela Mangia una mela E vai ad attivare quel cannone Via Ci ci avvacciamo Ah Non l'ho guardata negli occhi Non l'ho guardata negli occhi Ho perso il cannone Ho perso il cannone Che non l'ho portato a milioni di creeper Che succede? Che succede? No Raga Che è successo? Oh mio Dio E' esploso il cannone E' esploso il cannone Che è successo? E' esploso il cannone E' esploso uno scheletro Esploso un creeper Vabbè il creeper a sto punto Facciamo esaltare Questo Si può uccidere Possiamo ucciderlo Ah Ho preso foto Ho preso foto Pantesano Ho finito Uno zombie villager Ha iniziato a camminare Per i cavoli suoi Che succede? Che succede? Che succede? Quanti? Ah Ragazzi Ci moriamo Ci moriamo Ah già Non abbiamo più lo scudo Ragazzi è bugato Non mi dà più Non mi dà più le mele Ah C'è picciniacolo Che non prende fuoco Muori Muori Andiamo a vedere da distante Dritto in fronte Raga è esploso il cannone Forse il cannone serviva per uccidere questo affare qua Vabbè Siamo riusciti Siamo riusciti ad ucciderlo Io direi Cosa? Raga questo non l'ho mai visto Lo scheletro sul ragno È epico Non l'ho mai visto Andiamo se lo sciottiamo Raga ho finito le fricce Oh Sono più stupidi Tutti i ragni Quanti ragni ci sono Quanti ragni sono Corri non ti fermare Corriamo all'altro villaggio Vediamo se riusciamo Anche lì A sopravvivere Vai Corri Corri Guardati cignacolo Corri non ti fermare Corri non ti fermare Corri non ti fermare Sta sorgendo il sole Dobbiamo essere all'interno del villaggio Ok Ali Salta per aria lo zoom Salta per aria tutto Abbiangere i due occhi d'oro Quindi Fatemi vedere qua cosa c'è Allora Aia Non mi ricordo dove c'è una stifama Ok Ho rivesto C'è quindi i cannoni esplodono alla fine No raga No raga Aia Ho infame Oh Quanti Fa più male gli slime degli skeleton Ma è una roba assurda Usa villager Quindi No Ho perso Ho perso la redstone Anche questo è un cannone E ho perso la redstone Come facciamo adesso Dobbiamo trovare la redstone Oppure un pulsante Per Ma io Avevo No Ho lasciato il pulsante Sopra Posizionato sopra Va bene Cerchiamo un pulsante Ci sarà un pulsante Da qualche parte Qua Ok Riesco a prenderlo Ok l'abbiamo preso Pia light and flame Il pulsante No Possiamo Abbiamo un arco riparato Interessante Ci serve un pulsante A noi però Aiuto Riescemi passare Chiudi Casomai c'è qualcosa qua dentro No C'è niente ragazzi Nulla Nulla non c'è Aspetta Questo è un pulsante Abbiamo il pulsante Sì Ma cosa c'è Uh altre mele Due patate Un fiorellino E questo Ok No Non credo che sia così Andiamo Allora devo riuscire a piazzare Allora questo Via distante il creeper Sennò qua esplode tutto Se esplode il creeper Siamo fregati Allora devo riuscire a piazzare Questo Ok Vediamo cosa succede Lo piazzo qua No 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 Raga è esploso tutto È esploso pure il cannone Ok Questo qua lo distruggiamo Ce la facciamo Non si può distruggere Non si distrugge Interessante Bene Niente Adesso dobbiamo riuscire a tornare a casa Adesso bisogna Eccola qua Prendiamo E sto E lo mettiamo qua E abbiamo completato Due Ce ne mancano tre Non ci credo Che c'è Chi è che mi ha colpito Chi mi colpisce Chi è che mi colpisce C'è qualcuno Che mi colpisce Ma chi Ah Lo schetro Raga È entrato in casa Era entrato in casa Voleva stare in casa Protezione dal sole Non ci credo Intelligenti li hanno fatti Oh Ho ucciso un farm È bastato un colpo Scarta di panini Come se non ci fosse mai Stato nessuno Ok Allora per Questo episodio È finita qua Un'altra giornata Di sole è sorta Per il prossimo episodio Vediamo se riusciamo Nel prossimo episodio A completare tutto Quindi andare A sconfiggere Gli altri tre villaggi Vediamo se ci facciamo Bravo Ok E se riusciamo a sconfiggere Negli altri tre villaggi E prendere i vaccini E portarli qua Vediamo se riusciamo A far tutto Nel prossimo episodio E basta Semplicemente Non abbiamo più Siamo riusciti A portarci via Un altro osservatore Però esplodono i cannoni Esplodono tutti C'è È stato un fail Pazzisco Pensavo che funzionasse Ma non hanno funzionato Il primo è esploso malissimo Il secondo è riuscito a sparare Un paio di colpi E poi è esploso Niente La redstone L'abbiamo persa Non ne tolgo altra E semplicemente Andremo a mano A uccidere Quei giganti Quanto capire Ce ne sono altri Di zombie giganti Ce n'è uno per città Ci mancano altre città Quindi Bene Io vi ricordo Il commentare Iscrivervi Lasciare dei like E condividere A tutti quanti Ciao A presto 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 A presto